Buonasera, salve a tutti, io sono come detto Felice Liperi, Andrea Gentile, eccolo qua. Voi lo vedete così, con l'aria mansueta, tranquilla, invece ha scritto un libro terrificante, non si sa come sia uscito, adesso cercheremo di capirlo. Prima cosa, infatti, volevo chiedere se questa macchina qui terribile l'hai portata tu, l'hai portata tu, questa per forza, per metterla in mano a quei bambini divoratori che frequentano il libro, e quindi sono un po' preoccupato, va bene. Il libro è molto interessante, molto appassionante, mi auguro, è la prima domanda che vi facciamo, perché anche Andrea lo voleva sapere, sei presenti, voi tutti presenti, compresi soprattutto i ragazzi, perché abbiamo voglia anche di sentire il vostro parere, avete letto il libro? Alzino la mano, chi ha letto tutti quelli che hanno letto il libro, per favore? No, chi l'ha letto, i ragazzi? Sì, l'hanno letto, va bene, qualcuno c'è. Insomma, i vivi e i morti è una fiabba nera, scura, che racconta un mondo veramente un po' terrificante, un po' particolare. E allora, la prima domanda che voglio fare ad Andrea Gentile è proprio questa. Intanto la casa editrice è la Minimum Facts, che insomma cerchiamo anche di pubblicizzare le case editrici che hanno coraggio di promuovere delle storie anche originali, particolari. Da dove viene questa, diciamo non questa passione, ma insomma questa ispirazione nera, cupa, che ti ha sollecitato, ti ha portato a scrivere questo libro? Grazie, grazie, grazie a tutti per la vostra presenza, speriamo di non annoiarvi, ce la mettiamo tutta. Dunque, dove nasce è sempre la domanda principale di chi prova a scrivere un testo, e in realtà la risposta è sempre non lo so. Perché non lo so, credo, provo a fare un ragionamento che va oltre questo testo, un ragionamento che ha a che fare proprio con questo strano gesto che molti di noi fanno, proprio di mettersi lì e scrivere. Se la vediamo dal punto di vista di un alieno che arriva di colpo sul nostro pianeta, la domanda sarebbe naturale, ma perché uno sta lì e fa questa cosa strana? Quale atto innaturale, per quanto sia nella nostra tradizione occidentale e non solo millenaria, quale atto misterioso ci spinge a passare ore e ore, mesi e mesi, anni e anni, a scrivere delle cose? Qualsiasi essi siano, che possano essere romanzi, saggi, testi di varia natura, fiabe per bambini, favole, qualsiasi cosa. Quale sia la ragione, io non l'ho ancora ben capito, o meglio, si possono fare moltissime ipotesi, non sono il primo a domandarselo, ma la risposta più semplice sarebbe quella classica che si dà, in questi casi, cercare di capire perché siamo su questa terra. La seconda, che è meno ambiziosa, è cercare di capire io chi sono. E questo è già un meccanismo molto complicato, a mio parere, perché la domanda di uno scrittore, o di una persona in generale, io chi sono, ha in sé un germe presente, è la possibilità di un batterio che attacca questa persona. Il fatto di porsi la domanda, io chi sono, in qualche modo ci spinge a mettere davanti a tutto noi. E in quanto io mi trovo a mettere davanti a tutti io, capite bene che il rischio è molto molto grande, in quanto siamo di fronte alla possibilità che di tutte le cose importanti che ci sono su questa terra, la cosa più importante per io sia io. E quindi questa persona che si sta facendo questa domanda, mi sembrerebbe quantomeno poco lucida nella sua analisi, pensare che egli sia al di sopra di tutto. È molto sciocco, credo che nessuno in realtà possa credere che il suo io sia più importante di tutto il resto. In realtà sappiamo bene che noi per nostra natura di esseri umani siamo portati necessariamente a dover passare per questa domanda. Io chi sono? E quindi la cosa più semplice che posso dire del perché nasce un testo, credo che sia proprio questa. E cioè non soltanto farsi la domanda io chi sono, dove io non è soltanto questo io che veste questo corpo, che come ben sapete passa attraverso varie fasi e non può arrivare in nessun'altra destinazione se non quella del deperimento. Ma con quale funzione? Perché? Perché lo fa? Perché c'è la possibilità che la scrittura non risponda esattamente alla domanda io chi sono, ma faccia qualcosa in più. E cioè si possa arrivare alla conclusione che non serva, non sia la scrittura a rispondere in qualche modo, almeno in parte, a questa domanda, io chi sono? Io in quanto essere umano che vive, che ha dei pensieri, che ha dei sentimenti, anche negativi, spesso negativi, sempre negativi in quanto viviamo, l'invidia, il pensiero negativo che ha a che fare con la possibilità che domani piova, che se il nostro figlio non ci risponde al telefono forse è successo qualcosa, qualsiasi tipo di ragionamento, è perché serve la scrittura. Perché forse la scrittura è possibile che serva a darci un tassello in più. E cioè non soltanto rispondere alla domanda io chi sono, ma addirittura a mutare la possibilità che io sia qualcosa, ossia qualcuno con determinati equilibri, con determinate caratteristiche. Cerco di spiegarmi meglio. La domanda è scriviamo a seconda di quello che siamo o siamo a seconda di quello che scriviamo? Per scriviamo vorrei specificare che non intendo soltanto scriviamo, ma anche leggiamo, naturalmente, viviamo l'esperienza di qualcosa che ci coinvolge. È possibile, per rispondere alla tua domanda, che quindi si possa andare in questa direzione. Siamo a seconda di quello che scriviamo. E cioè approcciare l'atto della scrittura come un momento di esplorazione di se stessi e che quindi cerca di essere non soltanto così limitato rispondendo quindi io chi sono, la domanda io chi sono, ma addirittura ci permette di cambiare nella fase della scrittura. Cioè la scrittura ci porta a diventare persone diverse. Questo non è soltanto un processo della scrittura, perché la scrittura non ha nulla di nobilitante rispetto ad altre attività, ma è per esempio, a mio parere, quello che può succedere nell'atto della lettura, nell'atto della fruizione di un'opera d'arte, nell'atto della visione di un film, dell'ascolto di un disco. E cioè la possibilità che se noi siamo in grado veramente, e se quell'opera ha le caratteristiche simbiotiche con noi, di mutarci, vada quindi rovesciata la possibilità. Cioè non scrivo per rispondere alla domanda io chi sono, ma utilizzo quell'atto, in quanto anche non solo scrittore, ma lettore, fruitore d'arte, fruitore di qualsiasi cosa, per vedere me stesso mutato. E quindi non ho più bisogno di rispondere alla domanda io chi sono, ma è proprio quel mezzo, quello strumento, ad essere un vascello per portarci a cambiare continuamente. Perché, come sapete, è meglio di me, questo stare su questa terra è talmente fugace che se non sentiamo una mutevolezza, la possibilità di cambiare continuamente, la possibilità di appassionarsi a qualsiasi cosa che in qualche modo ci dia una vive scienza, una vivacità diversa da quella che immaginavamo soltanto il giorno prima, che possa essa essere una partita di calcio, una passeggiata, la lettura dell'Iliade, o qualsiasi altra cosa, quello è un processo, quindi credo necessario per l'essere umano. Quindi per rispondere alla tua domanda ho eluso la questione nera, diciamo così, ma probabilmente si scrive per questa esplorazione, che non può essere soltanto la risposta io chi sono, io in quanto essere umano. Quindi tu non te la senti di dire perché hai scelto però quel modo, perché questa è la cosa in fondo che sta dietro, perché io ti ho chiesto una cosa che è ovvia e tu giustamente hai risposto, come rispondono tutti gli scrittori, che quando fanno un lavoro hanno quell'urgenza che tu hai descritto. A me interessava anche sapere perché hai usato quella forma, però vorrei aggiungere qualcosa, siccome tu hai parlato di mutare le possibilità, di cercare di cambiare, che in fondo è la magia della scrittura questa, aggiungere un aspetto che è uno degli aspetti più conturbanti del libro, cioè il fatto che tu ribalti totalmente, vedo, e voglio vedere poi se chi l'ha letto ne è d'accordo, il rapporto, gli stereotipi della moralità comune. In che senso dico? Normalmente anche nelle fiabe più nere, più cupe, più dure, ci sono alcune figure che sono sempre positive, sono sempre dal lato giusto della realtà. Qui tu invece questa cosa la ribalti completamente, perché ci sono dei bambini cattivissimi, perché i bambini cattivi sono rari nella scrittura, nella letteratura, nel cinema, così come le madri. Madri e bambini sono in genere figure che non si toccano, tu invece qua tiri fuori addirittura delle madri che chiedono ai figli di divorarle, o cose estreme tipo queste. Allora le due cose, ce n'è una terza ma poi te la chiederò dopo. Su queste due cose intanto volevo chiederti conferma. Sì, per chi non ha guardato questo testo, che peraltro vi suggerisco anche di utilizzare per questioni pratiche nella vita quotidiana, essendo particolarmente grosso. Vi fa arrabbiare vostro marito? Può essere utilissimo. E se vi sembra poco contundente, potete mandare un'email di protesta alla casa editrice, perché avrebbero dovuto fare il libro cartonato. Le vostre fidanzati, ragazze, che sono quelli in fondo probabilmente. Ehm... Grazie. Grazie.